Fervono i preparativi per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2023! Brum brum, stiamo scaldando i motori! Mancano un paio di mesi all'inizio del programma e già sappiamo il nome del primo concorrente ufficiale. Mi raccomando, ufficiale? Non dimentichiamocelo. Si tratta di un avvocato di fama internazionale, grande amico di una ex-naufraga della passata edizione. Molti di voi l'hanno già capito, chi non ha capito, ma ti spiego tutto di chi si tratta. Ma prima di proseguire, sigla! Amici di Gossip News, ben ritrovati! Io sono Andate, questa è una nuova pillola di Gossip! L'Isola dei Famosi 2023 sta scaldando, brum brum, i motori in vista del suo debutto previsto per la metà di aprile. Siete contenti? Vabbè. In queste ore su Nuova TV è spuntato il nome del primo concorrente ufficiale di questa edizione. Di chi si tratta? E io non ve lo dico, ma certo che ve lo dico! Luca Di Carlo, famosissimo, io ho il poster in cameretta, avvocato e miglior amico di Ilona Staller, per gli amici Cicciolina. Lo abbiamo visto diverse volte lo scorso anno in studio, propriamente difendeva l'amica Ilona. A quanto pare la sua presenza deve essere piaciuta agli autori dell'Isola. E sì, visto che l'hanno voluto quest'anno come concorrente. Oh, raga, un avvocato, tocca stare attenti adesso, eh! Mamma mia, se lo mandano a grande fratello VIP, spartono querele denunce come non ci fossero domani. Comunque, è stato proprio il 45enne avvocato a confermare la sua presenza nel cast di questa edizione e lo ha fatto sulle pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Quindi, se l'ha detto lui, l'hanno ufficializzato, non è una fake news, è la verità. Di Carlo, conosciuto anche come l'avvocato del diavolo, già l'alice lunga, non ha mai partecipato ad un programma come l'Isola. Ma è buon per lui. Adesso è finita, però. Lui stesso ha dichiarato che in Honduras si porterà diversi flaconi di crema protettiva, così come gli ha consigliato l'amica Elona Starr. Inoltre porterà pace, amore, trasgressione. Ah, cominciamo bene, cominciamo, eh! Mamma mia! Questa è la sua parola di Nuova TV, dove tra l'altro ha dichiarato di essere single e di non escludere di potersi innamorare proprio all'isola dei famosi, perché ormai, si sa, nei reality si va per trovare l'amore. A uomini e donne si va per la visibilità... No, aspetta, c'è un po' di confusione... No, è uguale, non cambia niente, praticamente. Uomini e donne è praticamente ambientato al Grande Fratello, ma anche in Honduras. Ok, bene. Ma chi è? Chi è questo baldo avvocatone? Laureato in giurisprudenza alla Sapienza di Roma, Di Carlo ha iniziato a lavorare come avvocato penalista, diventando uno tra i professionisti più rinomati e pagati. Lo pseudonimo avvocato del diavolo gli è stato affibbiato negli Stati Uniti dopo il processo a Ilona Staller. Sono passati anni da quando l'avvocato ha difeso Ciccioline dall'accusa di avere rapito il figlio Ludwig, che non è Van Beethoven, è Ludwig e basta, Staller o quello che è. Grazie anche al suo lavoro, Ilona è riuscita a riportare il figlio in Italia, venendo scagionata da ogni accusa. Quindi diciamo che, a di anni tutto, è un avvocato cui contro... avete capito, no? Dopo questa vicenda giudiziaria, lei e l'avvocato Di Carlo, Ilona e Di Carlo, sono rimasti grandi amigos, come si è visto nella passata edizione dell'Isola, quando lui, la difesa a spada tratta, diventando uno dei personaggi iconici del reality, grazie anche ai sipariati divertenti, con l'amico Nicola Savino. Che, ahimè, non vedremo più quest'anno. Di certo, Luca Di Carlo è un avvocato di fama mondiale, perché non tutti sanno che, tra i suoi clienti VIP in passato, ci sono stati personaggi del calibro di Michael Jackson e anche la famiglia di Pablo Escobar. Già me lo immagino la scena, eh? Uè, Di Carlo, sono Michael! Ma quale è Michael? Jackson! Uh, quale onore! Cosa vuoi? Eh, mi devi difendere! Ma sì, ci penso tutto io! Oppure Escobar! Uè, Di Carlo, sono Pablo! Che è Pablo? Escobar! Uh, rabbrividisco! Vabbè, lasciamo perdere! E' famoso, tra l'altro, Di Carlo, anche per aver avuto un flirt sentimentale con Pamela Anderson. Ciao, Di Carlo, sono Pamela! Oh, Pamela, quale? Ah, ma come la tua amorosa! Ah, beh, scusa! Vabbè, avete capito, no? Tra l'altro, per il progetto di Pamela Anderson, vi consiglio di guardare la serie TV su Netflix, che è uscita poco tempo fa, con tutta la biografia e la storia di Pamela Anderson, che è abbastanza interessante, non me l'aspettavo. Comunque, tornando a noi, come già accennato, l'amico di Carlo, attualmente è single. Beh, se non sono single, non vanno nei reality. Ah, no, 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 anche se sono accoppiati, vanno nei reality, ridiventano single, fanno una storiella, poi... Vabbè, lasciamo perdere! In attesa di vedere come se la caverà in Honduras, sappiamo anche che in questa nuova addiction dell'isola, ad affiancare la padrona di casa, Hilary Blasi, ci sarà la riconfermatissima la Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionista. Accanto a lei, però, non ci sarà più lui, Nicola Savino, il baffetto più famoso della TV, passato da qualche mese a TV8. Al suo posto dovrebbe esserci Enrico Papi. Ho fatto anche un video tra il proposito, tra l'altro, dove vi dico anche cosa ne penso di Enrico Papi all'isola, andatevelo a vedere, è inutile che vi ripeto le cose. Mistero, invece, sul nome dell'inviato. Mistero. Ancora non si sa se Alvin ci sarà oppure no. Se non dovesse essere riconfermato l'amico Alvin, il suo posto potrebbe venire preso da Paolo Ciavarro. Exgettino e volto di forum. Nulla contro Paolo Ciavarro, ma... Non lo so. Preferisco Papi. Detto questo, resta da capire chi saranno gli altri naufraghi che sbarcheranno in Honduras insieme all'amico Luca Di Carlo. Da diverse settimane circolano i nomi di Samantha De Grenet, con il figlio Brando, e di Loredana Deciso, con la figlia Jasmine, e anche di Nate, di Gossip News, col suo gatto. No, 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 non ho detto una minchiazza. Ma non per niente, perché il mio gatto non andrebbe mai in Honduras. Anche se, quei moschito sai come si divertirebbe. Vabbè. Al momento comunque queste sono solo voci di corridoio, ma pare che quest'anno gli autori dell'isola stiano puntando molto sulle coppie genitori-figli. Forse per ripetere il successo della passata edizione, quando Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro fecero divertire ed entrarono nel corazon del pubblico. Sì, perché in Mediaset funziona così, no? Se vedono che una cosa va bene, si fa solo quello, no? Vi ricordate Pier Silvio Berlusconi qualche anno fa? Faremo solo reality! Poi l'isola è andato male? Non so se faremo ancora reality. E così, praticamente. Comunque, staremo a vedere. Ovviamente quando ci saranno notizie, in tal senso, io sarò qui come una faina a raccontarvele. E la domanda, prima di chiudere, che vi faccio è... Cosa ne pensate del primo naufrago ufficiale dell'isola dei famosi, ovvero Luca Di Carlo? Oppure, quale altro nome vorresti vedere all'isola? Fatemelo sapere con un commento, ma prima di chiudere non posso, non posso evitare di chiedere l'opinione del mio gatto opinionista. Uè, gatto! Allora, è un po' che non ci sentiamo, sì. Allora, niente, qui tutti gli amici di Gossip News vogliono sapere che cosa ne pensi di questo Luca Di Carlo. Come chi è? E chi è l'avvocato del diavolo, lì, l'avvocato di Cicciolina? Ah, te di Cicciolina guardi solo i fili... Zitto, non si possono dire certe cose! E poi scusa, sei... No, 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 no. Comunque, al di là di quello... Ah, no, era una battuta quando dicevo che andiamo io e te all'isola dei famosi, lo so. Ma poi te immagina con tutta quella sabbia che ti si infine in tutti i peli. È un casino, un casino. Ah, però dopo le granseole... Ti diverti... Sì, vabbè, comunque stiamo un po' degenerando, eh. Dai, chiudo il film. Buonanotte. Chiudo il video e poi ne parliamo meglio. Va bene? Ciao, bello. Ciao. Scusate, oggi è il primo giorno... Il primo giorno di che? Vabbè, comunque, avete una minchiata. Oggi è lunedì, no? Col cavolo. Va bene, va bene, raga. Direi che ho sparato troppe minchiate per il momento, quindi chiudo qui il video. Ma prima vi... Chiedo gentilmente di farmi sapere, che è stato nei commenti, che cosa ne pensate di tutto quello che vi ho detto. Vi ho detto tante cose, quindi fate un po' voi. Che dirvi? Commentate come se non ci fossero domani. Registratevi, se non l'avete ancora fatto. Cliccate, se non l'avete ancora cliccato. Scampanellate, se non l'avete ancora scampanellato. Insomma, fate un po' quel cavolo che vi pare. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ben tazzi! 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 Grazie a tutti.